Stasera per sorteggio sarà Raffaele Pesce, candidato sindaco del Movimento Liberi e Forti, a chiudere la campagna elettorale. Una campagna, come afferma lo stesso Pesce in un mattiniero post su Facebook, portata avanti con il sorriso e la passione, con la solita coerenza, con il rispetto per gli avversari, parlando di programmi, seguendo una sola linea. Libertà, giustizia sociale, senso civico e tutela ambientale sono i valori che ci accomunano. Io sono soddisfatto per tutto quanto ho fatto. Le nostre due liste danno finalmente ad Agropoli la possibilità di scegliere liberamente, di cambiare. Tante sono state le realtà associative civiche del volontariato che hanno mostrato il proprio interesse al progetto. Da ultimo il Comitato per la città armoniosa, ma prima, nelle scorse settimane, si è registrata anche la visita di PER, le persone e la comunità. La realtà nazionale che ha messo in rete le migliori esperienze dell'associazionismo laico e cattolico per tramutarle in proposta civica e politica a livello territoriale. Raffaele Pesce in queste settimane ha rivendicato con forza l'importanza di riscoprire il senso di appartenenza alla comunità, una chiara alternativa a un modo di fare politica che ha caratterizzato Agropoli negli ultimi 15 anni. L'appello al voto finale in programma questa sera alle ore 23 in piazza Vittorio Veneto e in diretta su Cilento Channel. Altro argomento in questi giorni è l'agropoli servizi. L'agropoli servizi che abbiamo visto lavorare alacremente in questi giorni. Allora magari dobbiamo fare una campagna elettorale all'anno. Ogni sei mesi. Ben venga allora, ma non si possono prendere in giro i cittadini. Io mi rendo conto delle difficoltà, ma mi rifaccio soltanto sempre a quanto detto da questo palco. Noi siamo i nemici dell'Unione dei Comuni, i nemici dell'agropoli servizi. Assolutamente falso. Noi abbiamo la stessa capacità di vedere le cose e le necessità del Comune, ma vogliamo risolvere le cose diversamente. Le assunzioni le intendiamo senza mediazione politica. Intendiamo fare in modo che i lavoratori della manutenzione, dopo una vita di lavori pesanti e usuranti, vengano collocati diversamente. Intendiamo che le assunzioni vadano fatte così come per legge. Intendiamo apporre sempre la clausola sociale per i lavoratori delle cooperative. È previsto nel codice degli appalti la clausola sociale, a tutela dei rapporti di forza. Dobbiamo difendere il lavoratore debole. Non può essere ricattato nelle campagne elettorali. E questo non è una visione né di sinistra, né di destra, né di centro. È semplicemente una visione umana, l'uomo al centro, della politica e dell'amministrazione. Questo è il nostro richiamo a dei valori che hanno fondato la democrazia. Persone che si sono battute per la giustizia sociale e per la libertà che si ritrovano nel nostro movimento. Con visioni diverse, ma che mettono sempre al centro l'uomo. Non le cose, non le 120 opere ostentate, ma l'uomo. Il modo in cui vive, in cui lavora, in cui relaziona. Non ci sono più rapporti sociali. Questa piazza è un deserto. Non si discute più. L'anima ha abbandonato questa città. Possiamo fare tutte le opere, tutti i finanziamenti del mondo. Non servono. Ricostruiamo noi stessi. Diamo la possibilità a questi ragazzi di crescere con un'altra visione della politica. Ho riscontrato in questi giorni un'attenzione quasi sperata nella mia persona quotidianamente. Le persone mi avvicinano, mi contattano e dicono noi siamo con te, sei la speranza. Va bene, io ringrazio tutti per questi attestati di stima, ma invito tutti a rafforzare le due liste che mi rappresentano e che rappresentano il movimento. Perché è fondamentale. Sappiamo bene che nei paesi sopra 15.000 abitanti c'è la possibilità di fare il voto disgiunto e io ringrazio tutti per questi attestati che ricevo quotidianamente. Ma vi invito a votare queste persone, persone reali che mi hanno seguito volontariamente, che non ho dovuto sollecitare più di tanto e che fanno parte di una visione diversa della politica. Quindi votate liberi e forti con una croce sul simbolo e libertà e partecipazione su una croce sul simbolo. E ponete il nome dei consiglieri che ritenete validi. Consigliere uomo o consigliere la donna o solo un consigliere, è possibile anche questo, una lezione di voto soltanto, però ricordiamolo, preferibile il doppio voto, uomo o donna o donna uomo. Ma votiamo le liste, rafforziamo questa possibilità per il paese di cambiare le cose, di dare un'altra impronta, un'altra immagine anche fuori.